Percy. Altro che schermo di fumo all'aroma di pepite di pollo. Percy avrebbe voluto che Leo inventasse un cappello antisogni. Quella notte fece incubi orrendi. Prima sognò di essere di nuovo in Alaska durante l'impresa per il recupero dell'Aquila della Legione. Si arrampicava su una strada di montagna, ma non appena messo piede fuori dal ciglio della carreggiata, venne inghiottito dal fango denso di una palude. Il Muskeg, così l'aveva chiamato Hazel, si ritrovò a soffocare nella melma, incapace di muoversi, di vedere, di respirare. Per la prima volta nella vita, Percy capì cosa significasse affogare. «È solo un sogno», si disse, «mi sveglierò». Ma non per questo era meno terrificante. Percy non aveva mai avuto paura dell'acqua, era l'elemento di suo padre, ma dopo l'esperienza nel Muskeg aveva sviluppato una certa paura del soffocamento. Non lo avrebbe mai ammesso con nessuno, ma era diventato perfino un po' nervoso all'idea di entrare in acqua. Sapeva che era una cosa sciocca, lui non poteva affogare, ma sospettava pure che, se non avesse controllato la paura, forse alla fine sarebbe stata lei a controllare lui. Pensò all'amica Talia, che soffriva di vertigini sebbene fosse figlia del Dio del Cielo. Suo fratello, Jason, era in grado di volare evocando i venti. Talia non ci riusciva, forse perché aveva troppa paura per provarci. Se il figlio di Poseidone avesse cominciato a credere di poter affogare, il fango cominciò a premergli contro il petto. Si sentiva scoppiare i polmoni. «Piantala di farti prendere dal panico», si disse. «Tutto questo non è reale». Proprio quando non riusciva più a trattenere il fiato, il sogno cambiò. Percy si trovava in un vasto spazio tetro simile a un parcheggio sotterraneo. File di pilastri di pietra si estendevano in ogni direzione, sostenendo un soffitto alto sei metri. Qua e là, bracieri solitari, gettavano un bagliore rosso cupo sul pavimento. Percy non riusciva a spingere lo sguardo molto lontano, in quell'oscurità. Nappeso al soffitto, c'era un sistema di carrucole, sacchi di sabbia e file di luci da palcoscenico spente. Ammucchiate alla rinfusa, c'erano casse con varie scritte sopra, arredi scenici, armi e costumi. Su una c'era scritto «Spararazzi assortiti». Percy udì un macchinario cigolare nel buio, un rumore di enormi ingranaggi che ruotavano e dell'acqua che fuoriusciva con violenza da dei tubi. Poi vide il gigante. O almeno pensò che fosse un gigante. Era alto quasi quattro metri, una statura rispettabile per un ciclope, ma meno della metà di quella dei giganti con cui lui aveva avuto a che fare. Sembrava anche più umano rispetto ai soliti giganti, privo com'era delle grandi zampe da drago che caratterizzavano la specie. Tuttavia, i suoi lunghi capelli viola erano stretti in una coda di dread e intrecciati di monete d'oro e d'argento, una pettinatura che colpì Percy come un tratto tipico dello stile dei giganti. Sulla schiena portava una lancia lunga tre metri. Indossava un'enorme dolce vita nero, pantaloni neri e scarpe nere di pelle con una punta così lunga e ricciolata da sembrare le pantofole di un giullare. Camminava avanti e indietro su una piattaforma rialzata, esaminando una giara di bronzo, grande più o meno quanto Percy. «No, no, no», brontolava tra sé. «Dove sta il divertimento, che gusto c'è?» Urlò nelle tenebre. «Oto!» Persi udì qualcosa a muoversi in lontananza. Un altro gigante sbucò dall'oscurità. Era vestito nello stesso identico modo del primo, fino alla punta ricciolata delle scarpe. L'unica differenza tra i due era che i capelli del secondo erano verdi anziché viola. Il primo gigante imprecò. «Oto, perché mi fai questa cosa tutti i santi giorni? Ti avevo detto che il dolce vita nero oggi l'avrei indossato io. Potevi metterti qualunque cosa, tranne il dolce vita nero!» Otto strizzò gli occhi, come se si fosse appena svegliato. «Pensavo che oggi ti saresti messo la toga gialla. Quella l'ho messa ieri e tu ti sei presentato con la toga gialla!» «Ah, giusto. Scusa, Effie. Il fratello ringhio. Erano sicuramente gemelli, perché erano brutti nello stesso identico modo. E non chiamarmi Effie. Chiamami Effie Alte, è questo il mio nome. O se preferisci, usa il mio nome d'arte. Il grande Eff!» Otto fece una smorfia. «Non sono ancora molto convinto del tuo nome d'arte. Ciò che c'è perfetto. Come procedono i preparativi?» «Bene.» Otto non sembrava molto entusiasta. Le tigri mangia uomini, le lamero tanti. Però continuò a pensare che ci sarebbero bene un po' di ballerine. «Niente ballerine», lo fulminò Effie Alte. «E questo affare indicò disgustato la giara. Che cosa fa? Non è eccitante, ma è il cuore stesso dello spettacolo. Il ragazzo morirà se gli altri non lo salveranno. E se arriveranno nei tempi stabiliti...» «Ah, gli conviene», replicò Effie Alte. «Il primo di luglio alle calende. Il giorno sacro a Giunone. Così vuole nostra madre. Il giorno ideale per distruggere quegli stupidi semidei e sbattere la sconfitta in faccia a Giunone. E poi non ho intenzione di pagare gli straordinari ai fantasmi di quei gladiatori. Beh, allora moriranno tutti e noi cominceremo la distruzione di Roma. Proprio come vuole nostra madre», disse Otto. «Sarà perfetto. Il pubblico lo adorerà. I fantasmi romani amano questo genere di cose». E Fialte sembrava poco convinto. «La giara, però, se ne sta ferma qui e basta. Non potremmo appenderla sopra un fuoco oppure scioglierla in una vasca di acido o qualcosa del genere». «Il ragazzo ci serve vivo ancora per qualche giorno», replicò Otto. «Altrimenti i sette non abboccheranno all'amo e non correranno a salvarlo». «Sì, va bene. Però mi piacerebbe sentirlo urlare un po'. «Questa morte lenta e noiosa», insistette Fialte. «Che mi dici della nostra talentuosa amica? È pronta a ricevere la sua visita?» Otto fece una smorfia inacidita. «Non mi piace per niente parlare con lei. Mi innervosisce». «Ma è pronta?» «Sì», confermò Otto con riluttanza. «È pronta da secoli. Nessuno porterà via quella statua». «Ottimo!» E Fialte si strofinò le mani, impaziente. «Questa è la nostra grande occasione, fratello!» «L'avevi detto anche del nostro ultimo numero», borbottò Otto. «Sono rimasto appeso in quel blocco di ghiaccio sopra il fiume Lette per sei mesi e i media ci hanno completamente ignorato». «Stavolta è diverso», dichiarò E Fialte. «Stabiliremo il nuovo standard superiore nel campo dell'intrattenimento. Se nostra madre sarà soddisfatta, sarà il nostro biglietto per la fama e per il successo!» «Se lo dici tu», Otto sospirò. «Io comunque continuo a pensare che le ballerine con i costumi del lago dei cigni. Sarebbero adorabili!» «Niente balletto!» «Scusa!» «Vieni», disse Fialte. «Andiamo a esaminare le tigri. Voglio essere sicuro che siano affamate!» I giganti si allontanarono nel buio, con passo pesante. Percy si voltò verso la giara. «Devo guardare dentro», pensò. Ordinò al proprio sogno di avvicinarsi, fino alla superficie della giara. E la attraversò. All'interno, l'aria puzzava di alito cattivo e di metallo ossidato. L'unica luce proveniva dal bagliore viola cupo di una spada, la lama in ferro dell'ostige accostata alla parete del contenitore. Accovacciato accanto all'arma, c'era un ragazzo dall'aria molto abbattuta, vestito con jeans stracciati, una maglietta nera e un vecchio giubbotto da aviatore. Un siamo persi. Ma il figlio di Ade non poteva sentirlo. Il contenitore era sigillato. L'aria stava diventando velenosa. Nico teneva gli occhi chiusi, aveva il respiro corto. Sembrava quasi in meditazione. Il suo volto era pallido e più magro di quanto Percy ricordasse. Sulla parete interna della giara sembrava che Nico avesse inciso tre segni con la spada. Forse per indicare tre giorni di prigionia? Impossibile che fosse sopravvissuto così a lungo senza soffocare. Perfino nel sogno, Percy cominciava a soffrire la mancanza d'aria. Poi il figlio di Poseidone notò qualcosa tra i piedi di Nico. Una manciata di oggetti luccicanti, non più grandi dei denti di un bambino. Semi, intuì. Semi di melagrana. Tre erano stati mangiati e sputati. Cinque erano ancora racchiusi nella loro polpa rosso scuro. «Nico, dove si trova questo posto?» chiese Percy. «Ti salveremo!» L'immagine scomparve. La voce di una ragazza sussurrò «Persy». All'inizio pensò di essere ancora addormentato. Quando aveva perso la memoria, aveva sognato Annabeth per giorni, l'unica persona che ricordava del proprio passato. Aprì gli occhi e mise a fuoco. Si rese conto che lei era lì, in carne e ossa. Era in piedi accanto al letto e gli sorrideva, i capelli biondi sciolti sulle spalle. I suoi occhi grigi e tempestosi brillavano divertiti. Percy ripensò al primo giorno al campo mezzosangue, cinque anni prima, quando si era svegliato ancora un po' stordito e l'aveva trovata accanto a lui. Le sue prime parole erano state «quando dormi sbavi». «Sì, Annabeth era una romantica». «Che succede? Siamo arrivati?» «No», rispose lei a bassa voce, «è ancora notte fonda». «Vuoi dire che...» Il cuore di Percy cominciò a battere. Si rese conto di essere in pigiama, a letto. Probabilmente stava davvero sbavando, o quantomeno stava facendo versi strani mentre sognava. Senza dubbio non aveva un solo capello in ordine. Il suo alito non profumava di fiori. «Sei entrata di nascosto nella mia cabina?» Annabeth alzò gli occhi al cielo. «Persi, tra due mesi compirai diciassette anni. Non puoi ancora preoccuparti di metterti nei guai con il coach. Hai visto la sua mazza da baseball?» «E poi, testa d'alghe, volevo solo fare due passi. Non siamo ancora riusciti a passare un po' di tempo insieme da soli. Voglio mostrarti una cosa. Il mio posto preferito a bordo». Il cuore di Percy viaggiava fuori giri, ma non per la paura di finire nei guai. «Posso lavarmi i denti prima?» «Ti conviene, perché non ho intenzione di baciarti finché non lo farai», replicò Annabeth. «E datti una pettinata, già che ci sei». Per essere una trireme, la nave era enorme. Eppure comunicava Percy un senso di accoglienza, come il suo vecchio dormitorio alla Iensi Academy, o quello di qualsiasi altra scuola da cui lo avevano espulso. Il figlio di Poseidone seguì Annabeth e scese piano le scale del secondo ponte, che non aveva ancora esplorato, infermeria a parte. Superarono la sala macchine, che somigliava a un castello metallico di un parco giochi, con la differenza che era pericolosissimo e meccanizzato, pieno di condotti, pistoni e tubi che sbucavano da una sfera di bronzo centrale. Cavi simili a enormi spaghetti di metallo serpeggiavano sul pavimento e correvano sulle pareti. «Ma come fa a funzionare questo coso?» domandò Percy. «Non ne ho idea», rispose Annabeth, «e io sono l'unica, oltre a Leo, in grado di azionarlo». «Molto rassicurante?» «Dovrebbe essere a posto. Solo una volta ha minacciato di scoppiare». «Stai scherzando, spero?» Annabeth sorrise. «Andiamo». Continuarono a camminare, superando la cambusa e l'armeria. Verso la poppa della nave, giunsero di fronte a una porta di legno a due battenti, che si apriva su un'ampia scuderia. La stanza odorava di fiano fresco e coperte di lana. Sulla parete sinistra c'erano tre stalli vuoti, identici a quelli che usavano per i pegasi al campo mezzosangue. Sulla parte destra c'erano invece due gabbie, anch'esse vuote, sufficienti a contenere due grossi animali dello zoo. Al centro del pavimento c'era un pannello trasparente di vetro, sei metri per sei. Sotto di loro scorreva rapidamente il paesaggio notturno. Chilometri e chilometri di campagne buie, qua e là, illuminate da autostrade, simili a fili di ragnatela. «Una nave col fondo di vetro?» domandò Percy. Annabeth afferrò una coperta dal cancello dello stallo più vicino e la distese a terra, coprendo parte del vetro. «Sediamoci!» Si rilassarono sulla coperta, come per un picnic, e osservarono il mondo che scorreva sotto di loro. «Leo ha costruito la scuderia per permettere ai pegasi di andare e venire con facilità», spiegò Annabeth. «Ma non si è reso conto che i pegasi preferiscono volare liberi. Per questo gli stalli sono sempre vuoti». Percy si chiese dove fosse Blackjack, probabilmente a vagabondare nel cielo da qualche parte, magari però non troppo lontano. Gli faceva ancora male la testa per il colpo che gli aveva assestato, ma non ce l'aveva con lui. «In che senso andare e venire con facilità? Come potrebbero scendere due piani di scale?» Annabeth tamburellò le nocche sul vetro. «Questi sono portelloni che si aprono, come su un bombardiere». Percy deglutì. «Vuoi dire che siamo seduti su delle porte? E se si aprissero? Cadremmo e ci romperemmo l'osso del collo, immagino. Ma non si apriranno. Probabilmente». «Fantastico!» Annabeth rise. «Sai perché mi piace questo posto? Non è solo per la vista. Che cosa ti ricorda?» Percy si guardò intorno. Le gabbie e gli stalli, la lampada di bronzo celeste appesa alla trave, il profumo del fieno. E naturalmente, Annabeth seduta accanto a lui, con il viso pallido e bellissimo, nella luce tenue e ambrata. «Il camion di trasporto animali!» disse. «Quello che ci portò a Las Vegas». Il sorriso di Annabeth gli confermò che era la risposta giusta. «È passato una vita», continuò Percy. «Eravamo ridotti piuttosto male dopo aver attraversato il paese alla ricerca di quella stupida folgore. Ed eravamo chiusi in quel camion insieme a un gruppetto di animali maltrattati. come puoi ripensarci con nostalgia? Perché quella è stata la prima volta in cui io e te abbiamo parlato davvero, testa d'alghe. Io ti ho raccontato della mia famiglia e…» La figlia di Atena si tolse la collana con le perline colorate e simbolo degli anni trascorsi al campo, sulla quale aveva infilato l'anello del padre. C'era anche qualcos'altro sul cordino di cuoio. Il ciondolo di corallo rosso che Percy le aveva regalato quando si erano messi insieme. Proveniva dal palazzo di Poseidone, sul fondo del mare. «Mi ricorda da quanto tempo ci conosciamo», continuò Annabeth. «Avevamo dodici anni, Percy. Riesci a crederci?» «No», ammise lui. «Quindi è stato allora che hai capito che ti piacevo?» «Lei fece una smorfia. All'inizio ti odiavo. Ti trovavo irritante. Ti ho sopportato per qualche anno. Poi… ok, ok, va bene». Annabeth si sporse e lo baciò. Un bel bacio, senza spettatori. Niente romani e niente vecchi satiri strepitanti. Fu lei a ritirarsi per prima. «Mi sei mancato». Percy avrebbe voluto dirle la stessa cosa, ma non gli sembrava abbastanza. Nel periodo trascorso con i romani era praticamente stato il pensiero di Annabeth a tenerlo in vita. «Mi sei mancata». Non rendeva per niente l'idea. Ripensò alla serata appena trascorsa, quando Piper aveva scacciato l'idolon dalla sua mente. Lui non era stato cosciente di quella presenza, finché la figlia di Afrodite non aveva usato la lingua ammagliatrice. Da quando lo spirito se n'era andato, Percy aveva la sensazione che qualcuno gli avesse tolto una picca rovente dalla fronte. Non si era reso conto di quanto dolore quel fantasma gli procurasse, finché non se n'era liberato. Poi i suoi pensieri si erano schiariti. E la sua anima era tornata a occupare comodamente tutto lo spazio a disposizione. Stare seduto lì con Annabeth lo faceva sentire allo stesso modo. I mesi passati erano come uno dei suoi sogni assurdi. Gli eventi al Campo Giove sembravano annebbiati e irreali, come il duello con Jason, quando entrambi erano sotto il controllo degli Eidolon. Però non era pentito del tempo che aveva trascorso al Campo Giove. Gli aveva aperto gli occhi in molti modi. Annabeth cominciò un po' esitante. A Nuova Roma i semidei possono trascorrere tutta la vita in pace. Lei reagì con un'espressione guardinga. Reina me l'ha spiegato. Ma tu appartieni al Campo Mezzo Sangue. L'altra vita, lo so, la interruppe Persi. Ma mentre ero lì, ho visto molti semidei vivere senza paura. Ragazzi che frequentano l'università, coppie che si sposano e mettono su famiglia. Non c'è niente del genere al Campo Mezzo Sangue. Continuavo a pensare a noi due. Forse un giorno, quando questa guerra con i giganti sarà finita, non era facile esserne sicuri con quella luce dorata, ma gli sembrò che Annabeth stesse arrossendo. Ebbe paura di avere detto troppo, di averla spaventata con quei grandi sogni di un futuro insieme. Di solito era lei quella che faceva piani. Si maledisse in silenzio. Si conoscevano da anni, eppure a Persi sembrava ancora di non capirla abbastanza. Stavano insieme da mesi, ma la loro relazione sembrava sempre nuova e delicata, come una statuina di vetro. E lui aveva il terrore di fare qualcosa di sbagliato e di spezzarla. «Scusa», disse, «è solo che ho avuto bisogno di pensare a queste cose per andare avanti. Mi davano speranza. Fa come se non avessi detto niente». «No», replicò Annabeth, «santinumi, è una cosa dolcissima. È solo che forse è un'opportunità che abbiamo già perso. Se non riusciamo ad aggiustare le cose con i romani». «Beh, semidei greci e romani non sono mai andati d'accordo. Ecco perché gli dèi ci hanno tenuti separati. Non so se potremmo mai mettere radici là». Persi non aveva voglia di discutere, ma non riusciva ad abbandonare la speranza. Sentiva che era importante, non solo per lui e per Annabeth, ma per tutti gli altri semidei. Doveva esserci un modo per appartenere a due mondi allo stesso tempo. Dopotutto non era quello il senso della loro natura. Erano semidei. Non appartenevano del tutto né al mondo mortale né all'Orimpo, ma cercavano di fare pace con entrambi. Purtroppo il ragionamento finì col portarlo a pensare agli dèi, alla guerra e al sogno dei gemelli Efialte e Oto. «Quando mi hai svegliato stavo avendo un incubo», ammise. Poi le raccontò quello che aveva visto. Annabeth non sembrò sorpresa nemmeno delle parti più inquietanti. Scosse la testa ammestamente quando sentì di Nico imprigionato nella giara di bronzo e le si accese una luce di rabbia negli occhi quando seppe che i giganti stavano progettando uno strano spettacolo per distruggere Roma, spettacolo che includeva la loro morte dolorosa come evento di inaugurazione. «Nico è l'esca», murmurò. «Le forze di Gea l'hanno catturato. Ma non sappiamo di preciso dove lo tengono prigioniero. A Roma, da qualche parte. Sottoterra», disse Persi. Sostenevano che Nico avesse ancora qualche giorno di vita. «Ma non capisco come possa farcela senza ossigeno». «Altri cinque giorni», stando a quanto ci ha detto Nemesi, osservò Annabeth. «Le calende di luglio. Almeno la scadenza ha un senso». «Che cosa sono le calende?» Annabeth sorrise, come se fosse contenta di tornare alle vecchie abitudini. Persi che non sapeva le cose e lei che gliele spiegava. «È solo il termine che usano i romani per il primo giorno del mese. È da qui che viene la parola calendario. Ma come può Nico sopravvivere così a lungo? Dobbiamo parlarne con Hazel». «Adesso?» Lei esitò. «No, credo che possiamo aspettare fino a domattina. Non voglio darle questa brutta notizia nel cuore della notte». «I giganti hanno parlato di una statua e di un'amica talentuosa che le faceva la guardia», ricordò Persi. «Chiunque sia quest'amica, Otto ne aveva paura. E chiunque possa spaventare un gigante». Annabeth seguì con lo sguardo il profilo di un'autostrada che serpeggiava tra le colline buie. «Persi, hai visto Poseidone ultimamente? Ti ha dato qualche segno?» Lui scosse la testa. «No, non lo vedo né lo sento da... cavoli, non lo vedo dalla fine della guerra dei Titani. Ma era l'anno scorso, ad agosto. Si sentì invadere da un senso di orrore. «Perché? Tu hai visto Atena?» Annabeth evitò il suo sguardo. «Qualche settimana fa, ammise. E non... non è stato bello. Non sembrava in sé. Forse per colpa di quella schizofrenia greco-romana di cui parlava Nemesi. Non ne sono sicura. Ha detto che l'avevo delusa». «Delusa?» Persi pensava di aver sentito male. «Annabeth era la figlia semidivina modello. Era tutto ciò che una figlia di Atena dovrebbe essere». «Come ne salta in testa di... non lo so», rispose lei, affranta. «Come se questo non bastasse, ho avuto anch'io la mia dose di incubi. E non hanno neppure la metà del senso che hanno i tuoi». Persi rimase in attesa, ma Annabeth non aggiunse altro. Avrebbe voluto incoraggiarla, dire che sarebbe andato tutto bene, ma sapeva di non poterlo fare. Avrebbe voluto sistemare le cose per entrambi, garantirle un lieto fine. Dopo tanti anni, perfino la più crudele delle divinità avrebbe dovuto ammettere che se lo meritavano. Ma aveva la sensazione di non poter fare nulla per aiutarla questa volta, a parte starle vicino. Si sentiva inerme intrappolato, come quando affondava nel moscheg. «La figlia della saggezza. Da sola camminerà». «Che seratina romantica, eh?» Annabeth riuscì a tirare fuori un debole sorriso. «Ora basta con le cose brutte, almeno fino a domattina». Lo baciò di nuovo. «Capiremo come fare. Tu sei di nuovo con me. Per ora è tutto ciò che conta». «Giusto», concordò Persi. «Smettiamola di parlare del ritorno di Gea, di Nico in ostaggio, della fine del mondo, dei giganti che... «Zitto, testa d'alghe», ordinò Annabeth. «Abracciami e basta». Rimasero coccolati lì, a godersi il calore l'uno dell'altra. Tra il ronzio del motore della nave, la luce fioca e il conforto della presenza di Annabeth, Persi si sentì ben presto gli occhi pesanti e prima che se ne rendesse conto, si addormentò. Quando si svegliò, la luce del giorno brillava attraverso il pavimento di vetro e la voce di un ragazzo diceva «Oh, voi due siete in un mare di guai».